ciao ragazzi uno di voi mi ha chiesto il Paris Saint Germain e chi sono io per non darvi il Paris Saint Germain e nessuno perciò quest'oggi vedremo il Paris Saint Germain qui su FIFA 18 per P.S.3 da vicino il match del Paris Saint Germain questa squadra finora ha confermato le premesse di inizio stagione è ancora troppo presto per parlare di titolo ma la strada che hanno invocato è proprio quella giusta non so contro chi è ho fatto una squadra a caso guardiamo Neymar nuovo pisto del Paris Saint Germain farò vedere pochissimi minuti solo i giocatori le facce è un po' lento un po' lento nei passaggi come mi dicevano i ragazzi un po' lento ragazzi è riuscito a interrompere la trama con un buon intervento c'è pressione su di lui vediamo che non c'è ecco nel video vai Edison Cavani vabbè 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 Edron Rebeck grande Chiavosilva sono tanto bravo qui sul PS3 Danialves ma quella con un terzo di Danialves che ho fatto con la Juve una cosa che non doveva fare ragazzi parlo come sportivo ragazzi su PS3 è diverso vi giuro questo joystick della GameStop non mi va bene ve lo giuro devo concentrare su questa edizione PS3 è molto ma molto diversa anche sull'edizione Nintendo Switch ok andiamo a vedere i visi e il fisico dei giocatori del PS3 Neymar anche con i tatuaggi fatto benissimo Edison Cavani Boppe Labbiotto Verratti Tiago Silva Kurzman bellissima squadra Tiago Silva bellissima squadra Marquinhos è una grande squadra e qui Danialves il core Nutella bellissima squadra bellissima squadra il PS3 e me hanno questo non so chi sia Areola ottima squadra supera l'avversario tenta di contrastarlo e scivolare Neymar andiamo Neymar mettiamo la prova mi si preme bene sto gestico di GameStop va male vabbè abbiamo visto Neymar e Neymar arriva la segnalazione poi andiamo a vedere gli overall in fece aggiornati in tempo reale Cavani un 84 Mbappè un 81 Neymar 92 addirittura Rabiot 79 Verratti 85 Tiago Motta 79 Tiago Silva 90 Kurzman 80 Malchinhos 84 Danialves 84 e Areola 81 Trapp 81 a due mostruosi potiere per il Saint-Germain Meunier 79 Kim Ben Ben Kim Ben Ben 77 Pastore 83 Lukas 82 Draxel 82 downgradato e Di Maria 85 mamma mia addirittura ragazzi cosa dire vi ho fatto vedere il Paris Saint-Germain come avete richiesto Motta Motto Rabiot C'è il cross a cercare Cavani Verratti il nostro italiano mamma mia ok ragazzi questo era brevemente il Paris Saint-Germain su FIFA 18 ciao a tutti ragazzi lasciate un like cercatemi su Facebook per sfidarmi e per avere FIFA Points gratis su ragazzi Facebook di Nerdio Kisari per avere i premi e FIFA Points regalati da parte mia ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti